Non ho ancora deciso che cosa regalarle per San Valentino. Tu che dici? Ci sono solo quattro domande che contano nella vita. Cosa è sacro? Di cosa è fatto lo spirito? Per cosa vale la pena vivere? E per cosa vale la pena morire? La risposta ad ognuna è la stessa. Solo l'amore. Vabbè, allora scatola di cioccolati di tutta la vita. L'amore a volte somiglia a un discorso riuscito male. Dovevi essere conciso, efficace e invece ti sei dilungato troppo. Sai, sai, ti amo o hai l'ovio. Avrei potuto fare di meglio, certo, ma mi hai insegnato tu ad essere semplice. Tu che sei acqua e sapone. Per avere un amore perfetto ci vuole reattività e coordinazione, proprio come un gol dei runi. E invece là fuori tutti temporeggiano. A San Valentino tutti vanno a cena ed ordinano pizze a forma di cuore. Così i ristoratori e i pizzaioli impazziscono. Altri spendono soldi per dei gioielli e lasciano orefici distrutti dal dolore. Perché anelli a centinaia se ne vanno e non tornano più. Meglio dunque una scatola di cioccolatini. Sabino, una pizza a forma di cuore al tavolo 14, veloce. In questo locale pizza a forma di cuore non se ne fa. Sabino, se non mi fai immediatamente una pizza a forma di cuore, giuro che io ti licenzio. Lo prendo, ok, grazie. Va bene? Le lascio anche il cartellino con le caratteristiche. Quindi questo è? Per la mia ragazza. Per San Valentino? Per festeggiare questa ricorrenza. Sì. Benissimo. Di pagare lo ha già pagato. Questo è il suo. Lo scontrino glielo ho dato. Si ricordi cortesemente di portarlo qui almeno una volta all'anno. È una nostra creazione. Ci teniamo che sia sempre splendida. La ringrazio. È stato molto gentile. Stia bene. Grazie ancora, grazie ancora. Mi raccomando, è una mia creatura. La tratti con cura. Con cura, mi raccomando. Lo avevo appena raccomandato. Lo avevo appena raccomandato. Donato. Ehi pa, dimmi. Mi devi fare una cortesia. Guarda che mi ha chiamato nonna. Se puoi andarla a prendere al cimitero. Al cimitero? Tu sai com'è nonna. È che sto portando una scatola di cioccolatini a Paola. Ti saluto. Ciao. Dai, nonna, dai. Ciao, nonna. No. Prende la scatola, lascia. Nonna. Nonna, mi hai distrutto la scatola di cioccolatini. L'amore è come una scatola di cioccolatina, la nonna. Non sai mai a quello che gli capita. Non ti preoccupare, la nonna. Appalo, vengalo un pacco di taranno. Ti è. Ciao. Non ti preoccupare, che l'amore è come una scatola di cioccolatini. Grazie a tutti